Ciao a tutti, questa è la mia prima video recensione, ho voluto iniziare questa avventura di video recensioni partendo dall'alchimianatura, la prima azienda che ha avuto fiducia in me era all'inizio della mia avventura come blogger e mi ha inviato a inizi di settembre tre campioncini da 25 ml di tre loro prodotti, un detergente viso, una crema viso e una crema per il corpo appartenente alla linea del trattamento anticellulite, l'alchimianatura per chi non la conoscesse è una piccola azienda che si trova sull'appenino moldenese che secondo i principi dell'agricoltura biologica e biodinamica coltiva, seleziona, trasforma le piante, le erbe officinali in questi meravigliosi prodotti che tutta la famiglia può utilizzare, ci tengo a farvi vedere che i prodotti hanno una V perché sono dei prodotti vegan ok, ovvero prodotti che sono stati appunto prodotti confezionati nel rispetto dell'ambiente e di chi lo popola, non sono assolutamente testati sugli animali, non contengono prodotti di derivazione petrolifera, siliconi, coloranti, profumi sintetici, conservanti aggressivi, derivanti della formaldeide e prodotti OGM, quindi sono dei prodotti totalmente naturali, io ho già scritto due articoli, uno per il detergente viso e uno per la crema viso e nel box informazioni vi rilascio il link dove poterli poi andare a leggere, io in questa recensione vi parlerò brevemente di tutti e tre prodotti in modo da introdurvi in questo meraviglioso mondo della chimianatura perché a me ha conquistato in pochissimo tempo. Vi parlo del detergente viso, il detergente viso fa parte della linea Atlantis che ha una particolarità, quella di ricreare una sorta di aromaterapia, floraterapia per riequilibrare i nostri sensi a livello emozionale ed energetico. Questo detergente viso è un detergente viso con estratto floreale e di lavanda, ha un mix, il profumo tra la lavanda e limone che io ho apprezzato tantissimo perché adoro la lavanda. Il gel io non ve lo posso far vedere perché l'ho completamente finito perché a me è piaciuto tantissimo, comunque aveva una consistenza gelatinosa di color bianco, estremamente liquida, però bastava una piccola quantità proprio per detergere completamente la pelle del viso e anche del collo. Vi assicuro che è un prodotto buonissimo che pulisce a fondo la pelle senza aggredirla, eliminando anche dei residui di trucco e la pelle risulta fin da subito morbida, profumata e molto luminosa. Quindi io l'ho apprezzato per questo perché è un prodotto che deterge a fondo senza aggredire. La crema viso è molto particolare perché è una crema viso antiossidante alla vitamina C. Questa crema appartiene ad una linea che è indicata per chi vuole iniziare a trattare i primi segni del tempo perché è ricca di proprietà antiossidanti e rigeneranti per la pelle. Io non ho chissà che rughe sul viso perché ho le classiche rughette di esprazione che iniziano a venirmi fuori, ho magari qualche segno da trattamenti che ho fatto o dal sole. Quindi è una pelle che comunque va curata, è una pelle mista, la mia, è la classica zona T. Questa crema andrebbe utilizzata mattina a sera con abbinata delle goccine di vitamina C serum che io non avevo nei tre campioncini, quindi l'ho utilizzata da sola. Principalmente io la sto utilizzando ancora, però solo alla sera perché per me è un po' troppo pesante, perché essendo una pelle mista però anche molto sensibile, quando con questo tempo caldo-freddo, caldo-freddo, la mia pelle tende a tirar fuori molto sebo nella zona T, quindi è una crema che nutre, affondo, rigenera e la preferisco utilizzare in questo periodo solo alla sera. Come vedete il colore richiama molto il colore della crema pasticcera, il profumo è ottimo, è un profumo molto delicato, tra il dolce e l'aspro è un agrumato che secondo me richiama molto i profumi dell'estate perché c'è un mix di veramente di agrumato buonissimo. Dopo pochissime applicazioni io ho già visto i risultati, perché comunque la pelle risultava molto più luminosa, molto più setosa, molto più... si vedeva che stava riacquistando una luce che con altri prodotti che ho usato fino a questo periodo non mi hanno dato. ovviamente il bollino vegan ok, cosa che io ho apprezzato tantissimo. Questa crema è in più per chi è interessato, ha anche la rosa canina e l'olivello spinoso ed è una confezione da 15 ml il campioncino, che come vedete io ne ho ancora, la sto utilizzando tutte le sere, quindi basta pochissimo per nutrire la pelle del viso e del collo. Altro prodotto, questo prodotto io l'ho tenuto un pochino da parte perché appartiene alla linea del trattamento anticellulite, io non ho cellulite, è una mia fortuna, per cui non sapevo come utilizzarla. Però sono una persona estremamente diciamo curiosa e volevo assolutamente provarla perché gli altri due prodotti mi hanno conquistato, infatti prossimamente nel loro shop andrò a prendere il detergente e poi un altro prodottino. Quello che ho letto è crema, vegetal shell crema, la forza del mare, la magia della terra, drenante, snellente, ideale per capillari fragili. Sono andata a leggere un po' tutti gli ingredienti, ovviamente ingredienti naturalissimi, da agricoltura biologica certificata e oli naturali al 100%. Io ho letto che è speciale, è una crema che va bene per il trattamento urto, per adipositare il rilassamento cutano, però è speciale per gambe gonfie, dona una pocevole sensazione di fraschezza e leggerezza. Aiuta a drenare i liquidi che restano nei tessuti che causano edemi gonfiore cellulite. Tonifica rassoda la pelle che risulta liscia e vellutata. Io leggendo questo nel loro sito ho pensato, la utilizzo quando sto fuori casa 10 ore, sto in piedi per 9, per cui torno a casa che normalmente, non so voi, però le gambe le sento estremamente appesantite. Ed effettivamente è favolosa, perché in pochissimi minuti ho questa sensazione di quasi leggerezza. Il colore è quello tipico dei fanghi, non so se voi li avete mai presi, i fanghi, anche i fanghi che si possono trovare di diverse marche, e riprende proprio quel colore, il profumo è il profumo proprio di mare, posso dire di mare. E dentro, all'interno, tra i prodotti che possono dargli questo profumo, ce ne sono tanti in realtà, li sto leggendo adesso, comunque ha un profumo proprio di mare, che a me piace tantissimo. È una crema, in realtà questo campioncino io l'ho usato già un 3 quarto volte, perché lo utilizzo solo sulle gambe, ovviamente, metà gamba in realtà, non vado fino in fondo. Si fa un po' fatica a stenderla, va estremamente massaggiata, in modo che i principi attivi vengono rilasciati, e con un massaggio diciamo circolatorio, si riescono ad avere dei benefici praticamente, non dico immediati, ma quasi. Questo campioncino è una taglia da 6 mm, è ancora più piccolo, ripeto, è estremamente densa, ne basta poca, con massaggi circolatori veramente gli effetti si ottengono. Sarai curiosa di sapere da altri blogger o da clienti della chimia natura, se l'hanno utilizzata per la cellulite, se hanno avuto gli stessi effetti che ho avuto avendo subito gambe leggerissime. Ovviamente seguirà l'articolo sul mio blog per questa crema, perché io la consiglio, almeno per l'utilizzo che ne ho fatto io, è ottima. Io con questo ho finito e grazie mille, alla prossima! Grazie a tutti!